solo noi. Allora abbiamo una ventina di minuti per queste lezioni di primo soccorso, di pronto soccorso, ne approfitto visto che parliamo di Salone del Libro perché questa guida viene presentata proprio oggi al Salone del Libro dalle 10 e mezza, cioè praticamente da adesso fino alle 15 e 30, dove Simone? Presso il padiglione, presso lo stand di Idea Solidale che è il centro servizi che si occupa appunto di seguire le associazioni di volontariato nei loro progetti e quindi di dare un supporto sia logistico sia tecnico appunto a questi progetti di dimensioni anche ragguardevili come può essere. Questa guida, questo vademecum, prevenzione rischi sanitaria e formazione primo soccorso è un corso gratuito per studenti delle scuole medie e superiori e per l'università manuale per studenti per sapere di più, poi in realtà il corso sarebbe utile che lo facessero anche gli adulti. Riprendiamo l'argomento della volta scorsa, BLS che sta per supporto di base delle funzioni vitali. Ricapitoliamo un po' le puntate precedenti, abbiamo anche il nostro video, la direttrice di produzione, Luciana Salato, provvederà ovviamente a mettere i punti salienti del video. Gli obiettivi della BLS Stefania? Sì, riprendiamo quello detto la volta scorsa, obiettivo del BLS è ossigenare cervello e cuore affinché le cellule cerebrali non muoiano, cosa che accade molto velocemente dopo che è presente un arresto cardiocircolatorio in una persona, per cui con quello che abbiamo visto l'altra volta in puntata andare a fare la ventilazione artificiale in un paziente che non sta respirando e andare a fare il massaggio cardiaco in un paziente, in una persona in cui il cuore non sta battendo. Per cui facciamo queste due manovre, massaggio cardiaco alternato alle ventilazioni per andare proprio a supportare le funzioni vitali che sono coscienza, respiro e circolo come appunto già detto la volta scorsa e proprio per andare a prevenire i danni che si possono avere a causa della mancanza di ossigeno alle cellule cerebrali, danni che avvengono nei primissimi minuti dopo un arresto cardiorespiratorio. Questo è un esempio, un gruppo di amici a tavola, secondo me qualcuno tra un po' si sentirà poco bene, perché magari dopo mangiato si mangia di fretta, succede addirittura d'estate quando si bevono delle bibite troppo fredde, troppo ghiacciate, si rischia un malore. Vedete Stefania nella parte dell'attrice, possiamo sentire anche l'audio, dai che lo sentiamo. Io vi aspetto qui, eh. Mi raccomando, non ti muovere. No, no, non mi muovo, non mi muovo. Luciano! Luciano! Luciano, scelta! Stefania, corri! Ma che succede? Luciano, sta male! Prendi il telefono. Luciano, scelta! Chiamo subito il 118. 118 infermiere, eh? Sì, pronto! Pronto, ho bisogno di aiuto. Si calmi, mi dia il numero di telefono da dove chiama. Perfetto. Da che città chiama? Da Torino. Da che via? Che numero civico? Che nome c'è sul campanello da suonare? Rossi. Perfetto, cosa sta succedendo? Il mio amico Luciano si è sentito male, è per terra, non risponde. Adesso è vicino a lui? È cosciente? No, no, non è cosciente. Ok, adesso si avvicini a lui, chiamandolo ad alta voce, scuotendolo da una spalla. Mi dica se risponde. Luciano! Luciano! Non risponde, sembra morto. Correte, per favore, correte! 920, 920 da Tango Zero. Avanti, per Tango Zero cambia. No, a 920 c'è un servizio per voi, se puoi prendere nota. Ricevuto, via nazionale. Ecco, abbiamo seguito in doveroso silenzio questo episodio, continuiamo pure a vedere le immagini, perché a quel punto c'è la segnalazione all'ambulanza che parte in soccorso. Come mettere il paziente? Perché poi c'è tutta una posizione, abbiamo visto che l'attore ha detto, sembra morto. L'effetto è quello, naturalmente è soltanto un malore, ovviamente è dovuto a aver mangiato in fretta, insomma, un malore. La posizione della persona che sta male è importante, vero? In questo caso era girata di fianco? In questo caso era girata su di un fianco, la possiamo ovviamente trovare indipendentemente su di un fianco, a pancia in giù, a pancia in su. L'importante è riuscire a riportarla a pancia in su, perché tutte le manovre successive verranno effettuate, sia quelle di valutazione delle funzioni respiratorie e di valutazione del battito del cuore, quindi dell'efficacia, diciamo, delle funzioni principali, vengono effettuate frontalmente e quindi la persona deve essere sdraiata, possibilmente su di un piano rigido, quindi se è, per esempio, su di un letto, delicatamente l'appoggeremo a terra e tutte le manovre successive, come si può anche vedere poi nel filmato, vengono appunto fatte con la persona a pancia in su, quindi questo è fondamentale. Vediamo anche questo filmato, lo ascoltiamo, perché anche l'audio ha la sua importanza. La rianimazione cardiopolmonare, in funzione del grado di specializzazione e di equipaggiamento tecnico, del numero dei soccorritori presenti e della realtà dell'esperienza didattica. Manichino, soggetto reale. Ecco, abbiamo visto il manichino che abbiamo avuto nostro oscite nella scorsa puntata, ci sono tecniche ben precise, ne parleremo, ne parleremo ancora, bisogna seguire le istruzioni del 118, proprio come ha fatto anche il protagonista del video. Questa è la nozione generale. Ci sono però casi particolari in base a traumi, annegamenti, ci sono alcuni casi che richiedono particolari tecniche? Esatto. Il discorso è che appunto la causa che può portare all'arresto cardiorespiratorio nella persona che abbiamo di fronte, in quel caso può essere diversa, perché non è magari un problema cardiaco, ma è dovuto a un trauma, piuttosto che a un annegamento o magari anche una folgorazione, quindi una causa altra. E qui è molto importante, ritorno a sottolineare appunto il discorso di sicurezza, prestare attenzione ai rischi evolutivi che ci possono essere sulla scena, perché se ci troviamo in caso di trauma, per esempio, ci sarà comunque magari, che ne so, siamo sulla scena di un incidente, piuttosto che ci può essere una situazione che può essere un pericolo per chi è il soccorritore, in quel caso, e quindi prestare molta attenzione. Dopodiché le tecniche cambiano, perché per esempio in caso di trauma, certe manovre non le andiamo a fare, e quello che è importante ricordarsi in questo caso è comunicare al 118, proprio quando si fa la chiamata, una delle primissime cose che vanno dette, e se il paziente ha subito un trauma, quindi coinvolto un incidente, una caduta o quant'altro, oppure è stato trovato in piscina, piuttosto che una di queste situazioni, che invece cambiano poi le informazioni che vengono fornite, perché certe manovre non si possono effettuare. Poi quando accorrete con l'ambulanza avete il maggior numero di dettagli possibili, in modo da organizzare già, sapere già quello che fare istantaneamente quando arrivate sul posto? Sì, perché comunque l'operatore, in questo caso l'infermiere del 118, che si occupa di fare la valutazione con la persona che sta chiamando, resta continuamente al telefono per recuperare la maggior parte di informazioni possibili sulla causa, piuttosto che sul problema di salute della persona, per cui noi siamo inviati sul luogo dell'urgenza. Nel frattempo però l'ambulanza viene inviata, per cui certi dettagli magari ci vengono forniti durante il tragitto, proprio per un po' preparare maggiormente l'equipaggio che sta andando a soccorrere la persona alla scena che si troverà davanti. Sì, per essere più preparati possibili. Che cos'è, Simone, la posizione laterale di sicurezza? La posizione laterale di sicurezza è una posizione particolare che si fa... Dovremo avere anche una foto e poi se la recuperiamo. Prego, Simone. Una posizione particolare nella quale si mette l'infortunato in alcune situazioni che richiedono il fatto che ci si debba allontanare per tempi brevissimi dalla persona che stiamo seguendo. Si applica esclusivamente in caso di persona non cosciente che però respira, quindi noi sappiamo che la persona respira, però non è cosciente. Immaginiamoci uno scenario, che forse è il modo più semplice per avvicinarsi a questo tipo di problema. In casa, fuga di gas, due o tre persone che contemporaneamente possono avere un problema, quindi perdono coscienza, ci avviciniamo alla prima, controlliamo se la persona respira, vediamo che non è cosciente, controlliamo se respira, dobbiamo però chiamare 118, allontanarci magari per controllare altre persone all'interno dell'appartamento. E quindi in questo piccolo breve lasso di tempo viene posta su di un fianco sostanzialmente in una posizione che però rende stabile, rende molto stabile la persona che non è cosciente, mantiene la testa iperestesa, che è una cosa che abbiamo visto l'altra volta insieme a Stefania e a Cristina, che è fondamentale per poter respirare bene. Quindi questo ci consente di allontanarci, ma per 30 secondi, un minuto, giusto il tempo di andare a recuperare il telefono, piuttosto che vedere se c'è qualcun altro che sta male, che cos'ha, e poi si torna immediatamente alla persona non cosciente, perché poi in mente è quella che dobbiamo seguire con più attenzione.